Benvenuti sul Luminismo Informatico, questo qua è un video del corso di logica e in questo video parleremo di premesse cioè le cosiddette premesse per un argomento allora, scegliere premesse per un argomento, appunto, questo è il titolo diciamo dell'argomento di oggi e quindi principalmente lo scopo sarebbe appunto trattare di argomenti. Libro consigliato Lucy Obrex Tieteka James Perelman trattato dell'argomentazione e la nuova retorica dell'Enaudi metterò il link in descrizione di questo libro e niente, questo qua è un testo secondo me fondamentale per capire la retorica uno dei più cioè, da me diciamo abbastanza consigliati e quelli più completi, poi trattato da due autori che sono abbastanza come dire, recenti, contemporanei allora, una mappa concettuale per gli argomenti cioè, in realtà, appunto, io ho già fatto delle lezioni sugli argomenti, no? in questo corso, per esempio, trovate delle lezioni sul tema come è fatto un argomento, no? come è fatto un argomento, beh l'argomento ha delle parti, no? ha delle premesse e una conclusione e quindi l'argomento è costruito, cioè di una natura tale che ci sono una serie di premesse che sono numerate almeno in un argomento canonico succede così le premesse sono numerate poi una linea e poi abbiamo una conclusione se le premesse sono n la conclusione è n più 1 le premesse possono essere anche in una relazione di implicazione però ci deve essere una relazione di inferenza tra le premesse e la conclusione di una natura tale che la conclusione consegue dalle premesse altrimenti avremo a che fare semplicemente con una lista di enunciati e non con un argomento quindi questo è, diciamo, come è fatto l'argomento dal punto di vista delle parti in realtà io questa cosa appunto l'avevo spiegata in un altro video ho fatto poi degli altri video sempre sull'argomentazione in cui ho parlato di come si valuta un argomento dell'induzione, delle fallace logiche, eccetera, eccetera quando noi analizziamo un argomento noi dobbiamo sapere che esistono due tipi di argomenti quello deduttivo e quello induttivo beh, la differenza è semplicemente questa l'argomento deduttivo sarà valido o non valido l'argomento induttivo è forte oppure debole l'argomento deduttivo, quello deduttivo, è valido quando le premesse sono vere e la conclusione viene inferita dalle premesse se le cose stanno così l'argomento è valido quindi la conclusione è assolutamente vera mentre non è valido quando mancano queste condizioni cioè o nel caso in cui le premesse sono false ce n'è almeno una, falsa oppure nel caso in cui non c'è l'inferenza ma se non c'è l'inferenza non è proprio un argomento nel caso dell'induttivo abbiamo due tipi di argomenti induttivi quello forte e quello debole in questo caso cosa succede? mentre nel deduttivo se le premesse sono vere la conclusione è necessariamente vera nell'induttivo se le premesse sono vere non è detto che la conclusione sia vera e quindi c'è un rapporto probabilistico la verità della conclusione ha un tot di probabilità di essere vera ok? se questa probabilità è alta l'argomento induttivo è forte se la probabilità è bassa l'argomento induttivo è debole così funzionano diciamo gli argomenti induttivi e quindi vedi abbiamo visto anche i modi valido, non valido, forte e debole e poi ci sono appunto le fallace cosa sono le fallace? vabbè il fatto che un argomento può essere corretto oppure scorretto il fatto che un argomento sia valido non significa necessariamente che che sia corretto cioè nel senso valido significa semplicemente che se le premesse sono vere la conclusione è necessaria che te verano quello è il discorso mentre non è valido se non è così quindi in realtà io potrei avere a che fare con un argomento valido in cui c'è una premessa falsa come dire però in quel caso diciamo l'argomento non sarà diciamo corretto perché appunto la validità in realtà ha a che fare con il fatto cioè quel tipo di relazione che c'è tra le premesse e la conclusione se le premesse sono vere la conclusione è necessariamente vera forte in realtà invece appunto vuol dire se le premesse sono vere è molto probabile che la conclusione sia vera quindi l'argomento corretto sarà un argomento in cui sicuramente tutte le premesse sono vere la fallaccia è un argomento sicuramente scorretto però è sistematico perché diciamo nella fallaccia abbiamo a che fare proprio con delle strutture di argomenti sbagliati cioè non so come dire le fallacce sono semantiche il tipico esempio di cioè le fallacce semantiche sono oh vabbè ci abbiamo un classico surite dove abbiamo appunto quanti capelli bisogna avere per essere calvi questi surite sono quei classici problemi che solgono dal fatto che c'è un'ambiguità in un termine perché c'è un termine che non è chiarito se in un argomento accade una cosa di questo genere fallaccia semantica poi c'è un altro perché in questo caso abbiamo a che fare nei surite di un termine che non è ben definito tipo non si sa bene cosa sia il calvo non si sa bene cosa sia l'uomo ricco non si sa bene cosa si intenda per mucchio e così via ci sono degli altri casi invece in cui abbiamo a che fare con delle fallacce semantiche però di altro genere per esempio dove c'è un termine una parola qualsiasi che non cioè è ambigua perché non si capisce che cosa si intende vabbè l'esempio classico della frase la vecchia porta la sbarra chiaramente no la vecchia porta la sbarra oppure la vecchia porta la sbarra poi ci sono le fallate di pertinenza cioè le classiche tipo gli ad hominem gli ad ignorantiam gli ad misericordiam ad baculum cioè ce n'è un botto ad populum classiche fallacce quando me la prendo con la persona quando faccio appello ai sentimenti della gente quando faccio appello al fa ah ma quello lì è un poveretto eccetera eccetera se io dico questo quello è un ad misericordiam per dire poi ci sono le fallacie deduttive cioè sono diverse le classiche tipo che ne so quando dico se la terra è bagnata allora se se piove la terra è bagnata la terra è bagnata quindi è piovuto questa è una fallacia perché la terra potrebbe essere bagnata ma non perché è piovuto e poi ci sono quelle induttive per esempio la classica fallaccia del giocatore cioè nel senso ah sto giocando alla roulette come dire è sempre uscito o nero sicuramente al prossimo giro uscirà rosso falso oppure se lancio un dado no esce sempre uno il prossimo risultato sarà non sarà uno in realtà cioè anzi in realtà se noi la puntiamo cioè in realtà è il contrario è il contrario cioè se io lancio un dado e esce sempre uno aumentano le probabilità che il dato sia truccato e che dia solo uno e questo è il punto comunque questo è per fare un riassunto bene adesso ci dovranno attraversare appunto di premesse questo l'ho già spiegato appunto come è fatto l'argomento n premesse e conclusione la conclusione è la tesi dell'argomento le premesse sono da supporto alla tesi no quello che ci interessa appunto in questa lezione è capire che tipo di premesse dovrei cioè come faccio a selezionare delle premesse per un argomento perché nell'argomento cioè quando io argomento costruisco un argomento per cui ci sono delle premesse enumerate e poi infelisco la conclusione quindi c'è un ordine temporale per cui si parte dalle premesse e si arriva alla conclusione nella realtà però non avviene così cioè nella realtà quello che succede è una cosa completamente diversa noi abbiamo una tesi magari abbiamo una grande intuizione un'idea poi il nostro problema sarà giustificare quella cosa sostenere la nostra tesi allora vedete che in realtà nella realtà la conclusione viene prima e poi dopo spettano il compito di trovare delle premesse buone per la nostra conclusione e appunto questo è l'argomento di questa lezione dovrà raccontare le premesse accordo sulle premesse scelta delle premesse presentazione delle premesse una delle prime cose che noi dobbiamo imparare è che le premesse le premesse migliori sono quelle sulle quali esiste un largo accordo cioè se noi siamo tutti d'accordo che una certa cosa è vera usare quella cosa come premessa fantastico cioè è l'approccio migliore poi appunto ovviamente non posso usare infinite premesse per un argomento come dire scelgo delle premesse poi cioè come dire io posso anche inserire delle premesse inutili però se non servono intanto vale togliere no? meglio mettere le premesse che servono quelle essenziali selezioniamo quindi delle buone premesse dopodiché la terza parte è la presentazione delle premesse perché se io devo numerare le premesse cioè è inevitabile che come dire il mio flusso di coscienza e le mie stesse parole seguano un ordine temporale tal che se io dico la frase la presentazione delle premesse la viene prima di presentazione presentazione viene prima di delle e premesse viene dopo chiaro no? quindi quando io parlo necessariamente le premesse saranno in ordine cioè anche se non saranno strutturate nello stesso modo chiaro che non avrò più la struttura perfetta come in un argomento canonico però saranno in ordine quindi la presentazione delle premesse ha a che fare col fatto di cioè qual è la premessa che ci metto prima qual è quella che metto dopo e così via come scegliere una premessa e appunto cioè la questione essenziale appunto le migliori premesse sono quelle la cui validità è unisversalmente accettata da tutti quindi vabbè che tipo di premesse vabbè dipende ma ci sono delle cose che sono assolutamente vere ma per principio che il triangolo isoscele ha gli angoli alla base uguali e questa sicuramente c'è un qualcosa che non può essere oppure non so una serie di fatti che sono stati provati e ci sono dei documenti eccetera eccetera è come dire qualcosa di accettato da tutti ovviamente è fino a quando non viene messo in discussione e secondo c'è in Perelman in realtà tutto può essere messo in discussione cioè li parte un po' da questa prospettiva per cui non è che ci sono delle cose con validità assoluta tranne probabilmente che ne sono vabbè quello che ho detto prima no? C'è un triangolo isoscele agli angoli alla base uguali ma per definizione questo è come direbbe Kant appunto un giudizio analitico questo ovvio me ne però però un conto è perché abbiamo visto no? credo già in una lezione precedente il problema dell'uditorio no? quando io costruisco un argomento voglio far logica costruisco un argomento che penso che sia valido per tutti voglio fare una dimostrazione universale no? e quindi come dire ci sono delle cose delle premesse mettiamola così che sono universalmente accettate da tutti ma credo che soprattutto nell'ambito della retorica in una buona parte dei casi non si ha a che fare con questo ma si ha a che fare con un caso in cui parliamo ad un pubblico specifico persone di un certo tipo e queste persone accettano un certo tipo di verità e le danno se noi parlassimo un gruppetto di cristiani come dire loro daranno sicuramente per scontato che Dio esiste che Gesù è risorto e cose di questo genere e quelle sono tutta una serie di cose che noi possiamo come dare per valide è chiaro che in realtà non sono delle cose vere in sé e così via però se parli come con delle persone diciamo credenti cristiane sicuramente quello è senso comune e tutto è proprio questo cioè una delle premesse migliori è fondata sul senso comune su quello che credo di più il senso comune ha a che fare con un insieme di idee condivise queste idee condivise dipendono da una serie di fattori diciamo che secondo certi filosofi c'è buona parte di filosofi pensano che il senso comune vada riportato alle strutture cognitive quindi avendo delle strutture cognitive simili diciamo tutti gli esseri umani più o meno comuni tali per cui più o meno abbiamo una concezione del mondo che è quella e allora lì si costruisce un senso comune però ovviamente poi ci sono un sacco di differenze appunto tra le persone qui tra l'altro Perelman cita tre casi di premesse il fatto la verità e la presunzione allora che cos'è il fatto? il fatto è un'osservazione il punto è che se noi vogliamo costruire un buon argomento vogliamo scegliere delle buone premesse dobbiamo basarci su appunto di qualcosa che è universalmente condiviso o alquanto meno condiviso dalla maggior parte del pubblico con cui stiamo parlando una delle opzioni è partire da fatti e poi quello che dobbiamo fare è sceglierli bene e in qualche maniera scegliere dei fatti che siano condivisi almeno da quella maggior parte del pubblico e e quindi questo è cioè ovviamente anche il fatto può essere criticato può sempre essere messo in discussione questo non vi acconti più di dubbio e questo significa che poi come dire in quel caso bisognerà verificare il fatto l'idea migliore sarebbe tipo avere già con sé diciamo le prove di questo fatto cioè poterlo dimostrare nell'eventualità che ci fosse qualcuno che dovesse contraddirci e sostenere che un certo fatto in realtà non è vero una situazione simile ce l'abbiamo diciamo col tema delle verità solo che le verità sono relazioni tra fatti oppure teori scientifiche e quindi per esempio potremmo avere a che fare con risultati di esperimenti teoremi o altre cose appunto quindi il problema dell'accordo questo di cui parla c'è in Perelman cioè la condivisione diciamo di una certa verità cioè il fatto che molte persone pensano che una certa cosa è vera dipende dal fatto che c'è una sorta di accordo tra quegli individui che non è che vuol dire che si sono messi d'accordo ma che sono d'accordo sul fatto che una certa cosa è vera e come dicevo in realtà come dire dipende dal pubblico con cui parliamo per esempio nel caso della comunità scientifica ci sono tutta una serie di verità che spesso sono appunto oggetto d'accordo nell'ambito della biologia sicuramente c'è un accordo diciamo diffuso sulla teoria dell'evoluzione perché è stata dimostrata perché la teoria diciamo diciamo che ci sono un sacco di ricerche che poi comprovano cioè diciamo quel tipo di teoria ne vanno a supporto quindi c'è un accordo condiviso e quindi se tu parli con quel tipo di pubblico cioè puoi dare per scontato quel tipo di verità cioè puoi dire ok la teoria dell'evoluzione è di fatto valida cioè quello si dà per assunto e quindi costruire un argomento in cui quella è una premessa e come quella è una buona premessa cioè nel senso nessuno andrebbe a smontare una premessa di quel tipo a dire che per esempio è falsa se stai parlando con la comunità scientifica un altro punto di partenza mettiamola così sono i valori cioè non le verità non i fatti ma il fatto che si condividano diciamo dei valori appellarsi a quei valori libertà, vita, proprietà sono quelli astratti poi ci sono i valori riferiti ai singoli individui quelli concreti però quel tipo di valori in quanto sono condivisi in qualche maniera ci permettono ci danno una buona base diciamo per costruire delle buone premesse mettiamola così e quindi anche questo diciamo è un potenziale diciamo materiale per delle buone premesse ok poi ovviamente l'ultimo problema come faccio a ordinare le premesse in realtà secondo me la cosa qui bisogna stare attenti che altro ovviamente sono le relazioni di implicazione cioè può essere che una premessa derivi da altre premesse per qualche motivo oppure che si stia costruendo diciamo degli argomenti concatenati in entrambi i casi allora si ha a che fare con una gerarchia perché se no altrimenti cioè se una premessa non presuppone qualcosa al di sopra di sé potrebbe essere la prima cioè per dire ma in caso contrario se invece c'è un problema per cui ci sono due premesse che sono legate l'una all'altra da una relazione di inferenza e allora no allora a quel punto quella che viene inferita dall'altra viene dopo e l'altra prima in questo senso cioè si ordinano le premesse diciamo in un certo modo ecco un altro tema di cui parlano Perelman e l'altra è questo i dati per costruire un buon argomento è importante raccogliere dei dati i fatti di cui ci serviamo le premesse le stesse in realtà sono tipi di dati i dati ci dice Perelman a meno che non siano dimostrazioni vanno sempre interpretati e questo è un altro tema che può essere interessante quello dell'interpretazione però non ho intenzione di parlarne in questa lezione sicuramente però pensate che in realtà i fatti o sono composti da dati o sono dati per questi stessi perché cosa sono i dati cioè vabbè ci sono i dati sensibili quelli sono un certo tipo di dati ma ce ne sono un sacco da oggi vabbè abbiamo a che fare con i dati cioè i famosi i bit che poi diventano appunto pro dei dati delle persone i dati salvati nei database le tuple delle delle tabelle queste cose qua quello è un altro tipo di dati ad ogni modo sì perché per costruire un argomento in realtà poi un'altra cosa che può essere importante appunto la raccolta di dati ancora prima di pensare delle premesse beh in fondo ho detto che le migliori premesse sono come dire i fatti e le verità allora la domanda che mi faccio io è ok mettiamo che io ho una tesi che voglio sostenere per esempio non lo so che che un certo tipo di società troppo competitiva svantaggia diciamo un certo tipo di persone ok se voglio dimostrare che questa cosa è vera che c'è una certa categoria di individui che sono svantaggiati rispetto a un certo tipo di competizione raccolgo dei dati su quegli individui e che poi ovviamente mi devono servire per diciamo avvalorare la tesi e così poi vado a definire dei fatti allora dirò perché poiché succede questo questo quest'altro io ho questi dati e così via eccetera eccetera allora e poi vado a costruire quel tale tipo di persone come dire un certo tipo di competizione svantaggia un certo tipo di individui ok questo potrebbe essere un esempio per dire ah come si fa ad attaccare le problemi vabbè questo perché in realtà ho già fatto una lezione sulla confutazione ho già provato a parlare diciamo dell'argomento come faccia a smontare l'argomento di un altro molto semplice se l'argomento diventa scorretto o dimostro che l'altro non sta argomentando perché ovviamente se non c'è l'inferenza tra le promesse e la conclusione quello che sta dicendo l'altro non è altro che una lista di possibili premesse forse una lista di annunciati e quindi ok posso confutare un'altra persona dicendo ah la tua non è altro che una lista di annunciati non c'è inferenza tra le premesse e diciamo la conclusione e quindi non stai argomentando una cosa importante appunto saperlo riconoscere l'argomento per capire se effettivamente la persona con cui è di fronte sta veramente argomentando oppure no e beh un'altra questione è ovviamente c'è una lista di premesse se anche siccome la conclusione dipende da quelle premesse bisogna vedere da quali però come dire se la conclusione dipende da quelle premesse è sufficiente che una di quelle premesse come dire sia falsa boh l'argomento non sta più in piedi no cioè quindi conclusione falsa e così via questo soprattutto per gli argomenti deduttivi per gli argomenti induttivi il mio obiettivo è più che altro dimostrare che l'argomento è debole quindi a me quello che mi interessa dire è anche se le premesse fossero vere e c'è l'inferenza rispetto alla conclusione io cerco di dimostrarti che le probabilità che la che la conclusione sia diciamo vera e in realtà non sono alte ma sono basse per esempio se io porto dei nuovi fatti che alterano la probabilità della conclusione dell'argomento dell'avversario quello in realtà diminuisce le probabilità della verità della conclusione però in generale se voglio attaccare delle premesse mi interessa dimostrare che quella tale premessa è falsa e quindi allora incominciamo a dubitare delle premesse noi vediamo un argomento mettiamoci a tre premesse partiamo dalla prima e incominciamo a chiederci se è valida se non è valida se è vera è falsa e cose di questo tipo ok scopriamo che magari la prima premessa riguarda un fatto e noi ok incominciamo a dire ok ma le cose sono andate veramente così tirami fuori le prove poi incominciamo a cercare di valutare se queste eventuali prove stanno in piedi oppure no e cose di questo genere no questo è quello che a noi diciamo ci interessa poi però c'è un'altra cosa interessante che appunto il fatto che magari il fatto è avvenuto per davvero ma è stato interpretato scorrettamente da chi ha costruito l'argomento che prende dei dati che sono reali magari degli studi reali però poi gli interpreta nel modo in un modo che non diciamo che ne possiamo considerare scorretto allora in quel caso possiamo smontare di nuovo l'argomento l'avversario oppure potremmo per esempio attaccare una certa relazione tra premesse se qualcuno pensa che una premesse sia derivi da un'altra noi potremmo cercare di dimostrare che non è vero per esempio quella è un'altra cosa ipotesi argomentative a questo boh diciamo l'ultimo argomento penso comunque per questa lezione chiaramente ecco noi in realtà in un argomento possiamo ipotizzare delle cose vabbè c'è il caso dell'ipotesi per assurdo quindi io suppongo diciamo qualcosa per assurdo che di solito che cos'è cioè cosa faccio no? per esempio una supposizione argomento supposizione per assurdo prendo una tesi qualsiasi no? per esempio la mia tesi adesso dico una roba così a caso la morte è un'illusione la tesi no? costruisco un'ipotesi per assurdo la morte non è un'illusione poi faccio una serie di inferenze no? dico ma se la morte allora non è un'illusione allora vuol dire che la morte è reale vuol dire che c'è un evento in cui moriamo però in questo evento noi possiamo inferire noi in questo evento del morire siamo vivi o siamo morti se siamo morti allora saremmo già morti e allora che senso ha il morire se siamo vivi saremmo vivi e morti nello stesso momento come fai a essere metà vivo e metà morto non ha senso no? quindi ipotesi per assurdo poi potremmo concludere di allora siccome questo diciamo porta a una contraddizione inferire una tesi del tipo la morte in realtà è un'illusione ovviamente io non credo in quello che ho detto ho semplicemente cercato di costruire un argomento no? e come vedete in realtà questo argomento può anche essere abbastanza persuasivo nel senso sì cioè come dire vedete che parto da un'ipotesi per assurdo dimostro che quella quell'ipotesi per assurdo è che il contrario della mia tesi implica delle contraddizioni perché non ha nessun senso dire che una persona che sta morendo è già morta allora è già morta non sta morendo oppure pensare che una persona sia viva mentre sta morendo e quando è come dire ma allora è ancora viva e capito? e non è morta e capito no? questa contraddizione come dire ci permette poi di inferire la conclusione quindi ha una certa struttura questo argomento questo è un argomento tanto per intenderci tipico dei degli eleatici ok tipico dell'eleatico il classico come Achille la tartaruga e quel discorso lì no? siamo a quei livelli lì no? una cosa di questo tipo queste sono però le ipotesi per assurdo poi ovviamente io potrei ipotizzare diciamo una serie di altre cose solo che poi in realtà come dire o la mia ipotesi viene dimostrata o altrimenti se io tipo costruisco un argomento no? però abbiamo un argomento in cui c'è una premessa che è un'ipotesi in cui il valore di verità non si conosce è problematico perché nel caso in cui risultasse falsa allora il mio argomento casca cioè immediatamente questo diciamo quello che succede ah avevo preparato un non mi ricordavo questa cosa un esempio concreto il mio esempio è questo questa è la mia conclusione dell'argomento io vorrei dimostrare che Nerone in realtà non è colpevole perché non ha bruciato Roma ok? questo è quello che voglio dimostrare io e quindi ho selezionato una serie di premesse adesso io mi sono solo fatto una lista di premesse non state pensare tanto al numero cioè al fatto che debbano per forza essere in questo ordine però ho presentato appunto una serie di premesse che se messe poi ovviamente in un ordine magari più decente e così via dovrebbero poi convincere diciamo l'interlocutore che Nerone in realtà non ha bruciato Roma appunto la prima premessa è che d'estate Roma è spesso soggetta a frequenti roghi quindi in realtà questo capita tra virgolette tutti gli anni o insomma di frequente le case che hanno preso fuoco sono quelle dei quartieri più poveri quindi quelle più facilmente infiammabili e quindi non sarebbe strano se in realtà se si trattasse semplicemente di un fenomeno non so non vorrei dire naturale però insomma non certo intenzionale voluto da una persona nello specifico cioè pianificato perché poi alla fine che cosa è questa è una tesi diciamo di carattere complottistico no pensare che Nerone ha bruciato Roma terzo e sono proprio queste case quelle dei quartieri più poveri che hanno preso fuoco per prima tra l'altro proprio qui interessante perché ovviamente questa in effetti giustamente sta dopo le altre premesse perché per forza deriva dalle prime due cioè se avessi messo questa cioè avessi incominciato con sono queste le prime ad aver preso fuoco non si capiva neanche di che cosa sto parlando no quindi questa giustamente va come terza però nessuno storico serio ha mai sostenuto che Nerone incendio a Roma Tacito per esempio che è un grandissimo storico latino ne parla come una diceria si dice che è una storia non sai ma anche erodoto per dire racconta leggende sue eccetera eccetera ma lui stesso non ci crede così che incomincia un po' il discorso sulla storia cioè il superamento del mito io tipo cerco di vedere almeno qual è la versione più plausibile e non ti vado a parlare di sirene ciclopi e così via non esistono fatti a supporto di questa tesi ok ma se anche fosse no se anche fossero dimostramelo perché come dire tu non mi stai dicendo niente devi provarmelo non ci sono che io sappia fatti a favore di questa tesi poi in realtà un'argomentazione c'era per esempio il fatto che Nerone voleva costruirsi la sua famosa Domus Aurea ma la domanda che io mi faccio è perché Nerone doveva bruciare una parte una parte della città solo per costruire la Domus Aurea e per questo incendio è avvenuto in un'area che non era quella dove poi è stata costruita la Domus Aurea quindi cioè come si fa a sostenere no? è chiaro no? settimo i cristiani non parlano di Nerone come incendiario perché poi sono stati accusati i cristiani sono stati loro caprio espiatorio classico i cristiani sarebbero stati probabilmente i primi a desiderare di dire ok a dare la colpa a Nerone ma non l'hanno fatto quindi e queste erano diciamo le mie premesse cioè come io ho tentato diciamo di selezionare diciamo delle premesse per un argomento che ha questa come conclusione o come tesi bene il video finisce qua questa qua è la fine della lezione nel prossimo video io ho intenzione di parlare di questo argomento che mi interessa vorrei studiare la differenza tra l'argomentare e la dialettica sì perché di solito si dice che quelli che argomentano meglio sono i dialettici e roba del genere però in realtà tra l'argomentazione nella dialettica ci sono due cose diverse perché l'argomentazione è una struttura lineare ma però abbastanza sequenziale un po' come il codice nella programmazione cioè una serie di premesse lette una alla volta per una conclusione che è inferita dalle premesse e invece questa è la logica per cui si premette qualcosa non si mette prima per cui andando a ritroso andiamo anche fuori con un fenomeno di regresso per cui se io mi chiedo perché o ci sono delle premesse che sono fondate in sé che è la cosa migliore se no se questa premessa è la conclusione di un altro argomento allora devo risalire all'altro argomento e così via se ho più argomenti concatenati la dialettica non è questo la dialettica è un meccanismo circolare di domanda e risposta in cui ogni volta si formula un'ipotesi e poi questa ipotesi viene continuamente testata e messa in discussione come nella maieutica di Socrate infatti nella prossima lezione sicuramente parlerò del teteto se ti è piaciuto questo video metti mi piace se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti perché ci saranno altri video come questo questo appunto è un corso di logica questa è una lezione sull'argomentazione come ho detto ne ho fatte delle altre le lezioni sull'argomentazione ma al momento io in realtà sto trattando principalmente il tema della retorica andrò anche un po' lento perché sto leggendo diversi testi tra cui le opere di Quintigliano e quindi sarà un po' così però questo è l'argomento centrale quindi adesso diciamo il tema della retorica metterò vari link in descrizione soprattutto il testo di C.M. Perelman di la nuova retorica e il trattato dell'argomentazione testo appunto fondamentale anche per queste lezioni poi ci saranno altri link pagina facebook blog tango e canale telegram dove ci sono tutti gli aggiornamenti e per il resto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti